C'è il mercordi, a mercato gente mie, scessino ferravecchi e scatolari, rigattieri, spazzini bicchierari, stracciaroli e tant'arte mercanzie, non c'è niente da dire, ma ste scanzie da libri e ste libracci e ste librari che ci viengono a fa' cosa ci impari da tanti libri e tante librerie? Tu piglia un libro a panza vota e dopo che l'hai tenuto per qualche ora in mano dimmi sei fame o sei maniato troppo? Che predicava alla missioner prete? Le libri non sono roba del cristiano, figli per carità, non le leggete.